Anche questa sera il Sambapolis è stato spettatore di una partita emozionante e tiratissima in cui le due squadre hanno giocato mettendo in campo tutta la grinta e la voglia di cui disponevano. Stiamo parlando del ritorno degli ottavi playoff dalla delta informatica ad Espa, supermercati Trentino Rosa e il Bisonte Firenze che vale l'accesso ai quarti contro Conegliani. I primi due parziali sono per cuori forti con continui capoggimenti di fronte. Il primo set 8-6, 16-13, 18-21 e quando sembrava fatta per il Bisonte con un colpo di coda Trento sorpassi e chiude 27-25. Nonostante Mencarelli si gioca la carta del doppio cambio che gli aveva fruttato il primo set all'andata. Piani 6, Dodorico 6, Melli 5, Guerra 7, Anvacalor 4 e Alberti 4. Il secondo set è anch'esso emozionante con le squadre in campo che compiono sorpassi e controsorpassi. 8-4, 15-16, 18-21 e alla fine le spuntano ancora le giallo-blu che sorpassano vincendo ancora 27-25 con un finale emozionante. Melli 7, Piani 5, Dodorico 4, Vangestel 4, Anvacalor 4 e Alberti 3. La terza ripresa vede il cambio che darà il via alla rimonta di Firenze con Terry Uomos che avatta in posto 4. Il set che il Bisonte conduce sempre in testa, con Trento che solo nel finale riesce a ricucire un divario che è stato anche di 6 punti, ma il set finisce 25-22 per Firenze. Nel quarto parziale le Toscane continuano col piede sull'acceleratore ben presenuto. 8-5, 16-15, 21-17, 25-21 e chiudono il discorso qualificazione ai quarti. Il quinto set è solo per la statistica, comunque nonostante molti cambi operati le Toscane vincono 15-12. Si quede chiù una stagione esaltante per le giovani trentine che hanno onorato i migliori modi il primo anno nella massima ferie. I complimenti comunque vanno alle ragazze in Mencarelli per la determinazione e l'approccio alla partita e capace di rimontare un gap di due set. Sapevamo di dover venire qua e spingere perché comunque loro sono una bella squadra affiatata e quindi i primi due set non abbiamo fatto quello che ci eravamo ripromesse. Poi siamo entrate il terzo guardandoci negli occhi dicendo cosa vogliamo fare e poi siamo riuscite a raggiungere il nostro risultato di stasera.